bello a tutti ragazzi bentornati sempre qui su bsquare gaming ho ancora il dildo ma non vi preoccupate cercherò di non fare più figuracce quindi ok allora siamo appena usciti dalla macchina della polizia proprio impavidi io mi chiedo dove è andata il dove è andato lo sceriffo a questo punto insomma l'entrata qua dentro è l'unica via ok aspetta 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 un momento for accident chiama cipalippa allora cazze che non è subito devo assolutamente chiamarli allora 5 5 5 8 7 3 3 cioè scusate eh vabbè molto utili come al solito va bene ok guardiamo qui non possiamo fumare qua dentro ma va bene va bene così allora quindi il corpo della forestale naturalmente non ci può dare una mano mi raccomando ragazzi facebook twitch e twitter noi facciamo almeno almeno e dico almeno tre twitchate la settimana l'unico modo per sapere quando stremmiamo è un po' quello del se vuoi ci sui social network quindi state belli connesse ce la farò ce la farò io voglio vorrei sapere perché fanno ste cazzo di realtà ah ok mi dimentichavo il secondo lucchetta ok bene bene adesso abbiamo la chiavettina ma che felicità che bello io direi di seguire un po' il il sentiero nella speranza che ci porti da qualche parte accidenti ragazzi quante emozioni chissà dove cazzo è finita la nostra figlia ma sarà stata davvero dentro quella casa o si sono burlati di noi e soprattutto io farò bene a seguire sto cazzo di sentiero ok dai mamma mia come sta fatica che roba è? ok wow guys quante emozioni ma 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 Kika sarà felicissima vediamo un po' Henry on the lake va bene quanta voglia di stare qui con voi capisce io non ci capisco un cazzo però lui capisce allora siamo sereni ok va bene devi aprire questa bella porticciola altri sentieri da seguire altre strade da percorrere ragazzi qui mica cazzi su b square gaming mi raccomando belle spollicciate in su se vi piace questo video mi raccomando aiutate il canale siamo piccolini andiamo avanti perchè non hai sempre tempo a tornare indietro una bella baita che bello ma 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 come è possibile ma ci posso pucciare dentro le mani come come faceva ah io ecco che ora mi è tutto chiaro come faceva in Silent Hill 2 il nostro protagonista o niente pucciata di mani che bei rumorini è proprio quello che ci vuole in un agro apri apri ok wow che fancy cos'è la chiappa sogni una banana marcia una banana marcia sesso senza protezione ad aperto minchia il moralista ho capito che cazzo ma 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 Mi chiedo Che c'è, che c'è Aspetta un momento Momento, momento, momento È il comando della Wii Safety Desco a leggere Flashlight Figata Figata, bello, bello Ma alquanto inutile È un souvenir Ok Io afferro Ma non si può Non posso prendere qualcosa Tipo Aspetta, aspetta Qui ci vuole assolutamente La macchina fotografica Indietro Fotografiamo Quindi Posso fare qualcosa? Quanta amarezza Un uccello in mano Suona molto male Amico mio Ma va bene così Allora, qui Sto cazzo Esco di qua Andiamo subito di qua Stanzettina tranquilla Ci andrà veramente in vacanza Non so Se la pensate come me Anche voi andreste in vacanza In questa ridente località Sì 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 Ok quindi abbiamo un nuovo contatto Ragazzi la nostra rubrica Non fa altro che allungarsi Sono molto felice perché qui stiamo facendo Veramente Allora Silent Hill Due mines di lab Che cazzo sta succedendo Tutto molto male ragazze Aio 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 Vediamo un po' sarà qui la chiave Ok mamma mia Non voglio sapere Di chi è questo giubbottino Però io nel caso se facesse freddo Lo prenderei Me ne fregherei Di sembrare uno che ha appena Appena dato fuoco Una tipa Ho capito Ho capito Come in downpour Preparatevi a correre di brutto Allora Situazione d'attacco Vai Sembra un minus Con questo Con questo cazzo di dildo della Wii Dai corri Quindi siamo in un altro incubo Ma che bello Ma che bello Quanti incubi cazzo Lì posso andare Forza e coraggio Sale lì L'importante è Ecco Aspetta ragazzi Trova posti evidenziati Per nasconderti Per entrarci E strisciarci sotto Corri verso di loro O premi A Per nasconderti Nasconditi Per perdere i nemici Che ti inseguono Aspetta troppo E con il loro olfatto E ti troveranno Quindi è abbastanza Caccia puttana Eva Caccia La puttana Non so dove sto scappando Ma va bene così C'ho una luce là in fondo Monella Dai Ritorna Comando No Proprio adesso Mi devi lasciare Dai ragazzi Ma Non scherziamo Aspetta Quando trovo Un razzo di emergenza Harry può accenderlo Con C Ah ok Fin quando il razzo Acceso Il tuo calore Il suo calore Terrà lontane Le creature Inoltre Harry può lasciare Cadere in terra Il razzo con più Creando così Una barriera temporanea Ma quanto sono emozionato Ma quanto è bravo Harry Che cazzo Devo andare ragazzi Qui non mi torna Ecco Per me no eh Porca puttana Porca puttana Oh Oh ma Levati dalle palle Cazzo È già morto Poi Ogni volta Che loro mi fanno così Ogni volta Che loro mi fanno così Dai Funziona Porca caccia Puttana Porca caccia La puttana Puttana Come cazzo Devo andare No ragazzi Ma non scherziamo La 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 luce È là Che poi magari È uno specchietto Per la lodole Dai corri Corri Figlio di Zoccola Corri La 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 su Oppure entriamo nella casa Dai entriamo nella casa La casa La casa La casa Is the way Ma che cazzo Ok qui però Non è entrata nessuna Attenzione Beh sto sicuro Qua dentro C'è una C'è una sedia Una bambina C'è una sedia Ad ondolo Ma io sto qui Cazzo C'è un bonfalò Allora meno I want to walk Ecco C'è il problema Di questo cazzo Di gioco È che ogni tanto Si impappina C'è il problema Ragazzi Porco cazzo Però Anche il fatto Che non si riesca Più ad ascoltare Non so che cazzo Di problema Ce abbia Dai stronzo Devi correre Però Ecco Là in fondo Là in fondo Dai muoviti Sacchetto di merda Dai Ma dove cazzo Siamo Scusate eh Dai corri Testa di minchia Cosa giri Cosa giri Porcaccia La puttana Che idiota Vai Entra Entra Porca puttana Entra Dai Cribbio Cosa devo fare Dai Cioè Io non so Che cazzo Devo fare No 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 Capitana Stavolta non sbagliare Per favore non sbagliare Non mollare Caputtana No 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 Riprenditi Porcaccia la puttana Riprenditi Dai cazzo ma perché succede sempre Quando mi attaccano Fanculo io non entro Basta Porca puttana Fastidio di merda Dai 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 ragazzo Però muoviti Porcaccia puttana Muoviti Muoviti Cazzo che Mamma mia che fallimento disumano No ragazzi ma non funziona ancora Porca puttana Ma come come può essere Ragazzi scrivete tre commenti Perché qui non Mamma mia che fastidio C'è una porta la Ancora Ragazzi avete un po' rotto il cazzo Avrà una fine sto parte Caputana così Adesso non mi va più il joystick Dai Dai Fallo ripartire Fallo ripartire Te ne prego Dai Si però non è possibile Porcaccia puttana Cioè guarda Non va Cioè ma come cazzo funziona Sto merda di robo Io ho sempre odiato Sti cazzo di controller Ma che ci si diverte Porcaccia puttana Sono più le volte che non funziona Che le volte che funziona Che fastidio Santi numi Ah qui c'è la foto No Messaggio Messaggio Ah ho capito Se la vuole bombare Caspita Va bene Ma queste cose Cosa Cosa mi rappresentano Ci sarà un motivo Per poi mi fanno sentire Entriamo qua dentro Dai Ok Ma Cioè Vorrei Vorrei capire perché l'ha fatto Ma Va bene così Comandi Porcaccia puttana I comandi Ma non potevano fare La La vision Cioè il cazzo di dildo In versione Non so Joystick Io mi domando perché facciano queste cazzate Cioè si emoziona La gente si emoziona A puntare Questo cazzo di dildo E fare le azioni Cioè ecco Questa cosa io non la capirò mai Eppure è stata un successone la Wii Però è stata un successone Perché ha preso il casual gamer I mi la capire Officer? No No I just I was I don't know where I was Harry You ok? Yeah I'm ok I'm out of the woods I'm on a football field I think it's the high school Harry Midwitch has a gym They often use They shelter in severe weather Go to the gym Emergency shelter Cheryl could have been taken there Cheryl? Yeah I'm going But if Cheryl's not there I can't wait I'm sorry I just can't Harry Che è successo? So we get to the house Va bene ragazzi Ma non resta che do appuntamento al prossimo video Mi raccomando con Facebook, Twitch e Twitter Bella spoliciata se vi è piaciuto il video e il fallimento E alla prossima Grazie 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 Grazie